Ciao a tutti, io sono Benedetta, ho 16 anni, vengo da un piccolo paese in provincia di Treviso. Sono una studentessa presso il liceo delle scienze applicate. Dopo il liceo vorrei andare a studiare criminologia. Diciamo che è un po' un indirizzo un po' particolare che potrebbe, tra virgolette, spaventare, però comunque è una cosa che mi appassiona molto. Sono una ginnasta da 7 anni, mi piace un sacco disegnare, infatti lo uso come punto di sfogo, diciamo. È il primo anno che partecipo a Miss Venice Beach e diciamo che ho avuto una seconda possibilità. Mi hanno deciso di premiare, quindi ringrazio tantissimo tutti quanti. Sono una ragazza molto estroversa, anche eccentrica, salare e molto festaiola. Un bacio a tutti e buona serata.